Nelle Marche, l'Europa è... In una carrozzina leggera e versatile che migliora la vita delle persone con disabilità. Nella possibilità di godersi il mare e la spiaggia di splendidi litorali naturali. In città più aperte e accessibili per i cittadini e i turisti. Nelle Marche, l'Europa è vicino a te. Nelle Marche, l'Europa è vicino a te.